Perché noi alla bellezza non vogliamo chiedere qualcosa che noi possiamo definire esteticamente valido. Noi alla bellezza chiediamo la conoscenza, all'arte chiediamo la conoscenza. E la conoscenza significa qualcosa di addirittura ancora più complicato, perché conoscere significa forse continuamente delle domande e non essere mai contenti delle risposte. Per cui ogni risposta implica una nuova domanda e andare avanti.